Non so se vale lo stesso per voi, ma noto da qualche anno che il tema della disparità di genere è sempre più chiacchierato. Lo vedo nei social, nelle discussioni tra amici, nei confronti in ufficio, e penso che sia una cosa importante, ma spesso un po' per superficialità, un po' per ignoranza, o anche per il piacere di provocare, o magari per il senso di appartenenza a un'idea piuttosto che a un'altra, mi pare che di passi in avanti su questa tematica se ne facciano un po' a fatica. Che poi io non ce l'ho una soluzione alla disparità di genere, non una pratica almeno da applicare subito. Penso però che il motore di ogni buon cambiamento sia la cultura, e questa in realtà funziona in maniera un po' lenta, e sì, impegnativa. Tutto subito non si può avere, e per quello dico che non c'ho una soluzione pratica. Quello che ho per voi oggi invece è una lettura da condividere, e si tratta di Ragazze elettriche di Naomi Alderman. Tra poco leggerò un pezzo per voi di questo romanzo, che parla proprio di disparità di genere, andando a interrogarsi su quale potrebbe esserne l'origine. La risposta che dà, forse banale, forse non così tanto, è la forza fisica. Quindi l'uomo sarebbe più avvantaggiato della donna, semplicemente perché è fisicamente più forte. Questo secondo voi potrebbe avere senso? Intanto ciao a tutti, io sono sempre Davide e questo è Punto a Copi, il mio progetto dedicato all'esplorazione del mondo della comunicazione, che tenta di aiutarvi, o anche solo di darvi qualche idea utile, con video, podcast e anche articoli. Se vi va perciò iscrivetevi al canale, seguitemi sul sito e su tutti i social, che magari, non lo so, potrebbe addirittura piacervi. Oggi primissimo video di Parole di libri, una rubrica nuova di Zinca, come direbbe mia nonna, in cui leggerò dei pezzi di romanzi che mi hanno particolarmente colpito e poi proverò a commentarli e a discuterne insieme a voi. Presto arriverà anche una rubrica gemella, che si intitola Parole di saggi, che tratterà invece di pezzi di saggi. Il ragionamento, insomma, non fa una piega. Ma arriviamo al dunque. Il libro di oggi è Ragazze elettriche, di Naomi Alderman, e il tema è la disparità di genere e la sua origine. Le uniche cose che vi dico, prima di cominciare a leggere, giusto per darvi un po' di contesto, è che ci troviamo nei panni di Tunde, un giovanissimo reporter, che sta documentando un episodio davvero particolare, che si sta verificando un po' in tutte le parti del mondo. Ovvero un cambiamento, che risulterà poi epocale, e che verrà chiamato nel tempo la giornata delle ragazze. Atterra a Riad la notte della prima grande rivolta. È la sua fortuna. Se fosse arrivato tre settimane prima, avrebbe potuto esaurire i soldi o l'entusiasmo a troppo presto. Avrebbe girato le stesse immagini di chiunque altro. Le donne, con indosso il batula, che si esercitano scambiandosi le scintille, tra timide resatine. Anzi, probabilmente non avrebbe concluso niente. Quelle riprese venivano per lo più filmate dalle donne stesse. Essendo un uomo, per fare delle riprese in quel luogo, era necessario arrivare proprio la notte, in cui le donne avevano cominciato a sciamare in massa per tutta la città. La rivolta era stata scatenata dalla morte di due ragazzine di circa 12 anni. Uno zio le aveva trovata a fare le loro diavolerie insieme. Poiché era un uomo religioso, aveva convocato i suoi amici, ma le ragazze si erano poste alla punizione che era stata loro inferta, e così erano finite entrambe picchiate a morte. E le vicine avevano visto e sentito. E, chi può dire perché quei fatti si siano verificati il giovedì, quando magari il martedì gli stessi eventi sarebbero passati inosservati, le donne avevano reagito. Una decina di donne si era trasformata in un centinaio. Un centinaio in un migliaio. La polizia si era ritirata. Le donne gridavano. Alcune avevano fatto degli striscioni. Tutto a un tratto si erano rese conto della propria forza. Quando Tunde arriva all'aeroporto, i funzionari di sicurezza che piantonano l'uscita lo avvertono che non è prudente allontanarsi. I visitatori stranieri dovrebbero restare nel terminal e salire sul primo volo che li riporti a casa. Deve corrompere tre uomini diversi per riuscire a sgusciare via furtivamente. Offre all'autista del taxi una tariffa doppia per farsi portare dove sono radunate le donne, a gridare e marciare. È mezzogiorno e l'uomo è terrorizzato. A casa, dice l'uomo, mentre Tunde salta giù dal taxi senza capire se stia dicendo ciò che si accinge a fare o se gli stia dando un consiglio. Tre strade più in là scorge la coda del corteo. Ha la sensazione che quel giorno, in quel luogo, accadrà qualcosa. Una cosa che lui non ha mai visto prima. È troppo su di giri per avere paura. Sarà lui a documentare quell'evento. Segue il corteo, tenendo la videocamera vicina al corpo in modo che non si veda troppo che cosa sta facendo. E ciò nonostante, due delle donne lo notano. Gli gridano dietro, prima in arabo e poi in inglese. «Giornalista? CNN BBC?» «Sì», risponde lui, «CNN». Si mettono a ridere e lui per un attimo ha paura, ma poi gli passa come un bocciolo di nuvola quando gridano l'una all'altra «CNN, CNN!» finché non ne arrivano altre con il pollice alzato a sorridere verso la videocamera. «Non puoi marciare con noi, CNN», dice una di loro, in un inglese appena migliore delle altre. «Non ci saranno uomini con noi oggi». «Oh, ma...» e Tunde sfodera il suo largo e irresistibile sorriso. «Sono innocuo, non mi fareste del male». Le donne dicono «No, nessun uomo no». «Che cosa devo fare per convincervi a fidarvi di me?» chiede Tunde. «Guardate, questo è il mio tesserino della CNN. Non porto nessun'arma». Si apre la giacca, se la sfila lentamente e la fa ruotare nell'aria per mostrarne entrambi i versi. Le donne lo osservano. Quella con l'inglese migliore dice «Potresti avere addosso qualunque cosa». «Come ti chiami?» chiede. «Tu sai già il mio nome. Sono in svantaggio». «Nur», dice lei. «Significa luce. Siamo quelle che portano la luce». «Allora, di un po'. Se avessi una pistola in una fondina dietro la schiena o un tesser legato al polpaccio?» Lui la guarda e inarca un sopracciglio. Lei ha gli occhi scuri e sorridenti. Gli sorride. «Davvero?» dice lui. Lei annuisce con un sorriso. Tunde si sbottona lentamente la camicia. Se la sfila dalle spalle. Vola qualche scintilla tra le punte dell'errodita. Ma lui non ha paura. «Nessun'arma attaccata alla schiena». «Lo vedo», dice lei. «Polpaccio?» Adesso ci saranno una trentina di donne a seguire la scena. Ciascuna di loro potrebbe ucciderlo con un colpo solo. Ormai è in ballo. Si slaccia i jeans. Li fa scivolare in basso. Il cerchio delle donne viene scosso dal fremito di un piccolo sussulto simultaneo. Tunde fa un lento giro su se stesso. «Nessun taser», dice. Sul polpaccio. Nur sorride. «Sile calabro superiore». «Allora vieni con noi, CNN. Rimettiti i vestiti e seguici». Si riveste in fretta e caracolla dietro di loro. Lei lo raggiunge e gli prende la mano sinistra. Nel nostro paese è proibito che un uomo e una donna si tengano la mano per strada. Nel nostro paese è proibito che una donna guidi un'automobile. Le donne non vanno bene in automobile. Gli stringe la mano più forte. Tunde riesce ad avvertire il ronzio dell'energia nelle spalle di lei come la sensazione che si avverte nell'aria prima di un temporale. Non gli fa del male. Nemmeno una scintilla sprizza verso di lui. Lo tira dietro di sé dall'altra parte della strada vuota verso un centro commerciale. Fuori dall'ingresso decine di auto sono parcheggiate in file ordinate contrassegnate da bandierine rosse, verdi e blu. Ai vetri dei piani superiori dell'edificio Tunde nota alcuni uomini e donne che li osservano. Le ragazze intorno a lui ridono, li additano, si fanno passare uno sfrigolio tra i polpastrelli. Gli uomini sono stupiti. Le donne fissano la scena con invidia. Non riescono a crederci. Non ride mentre fa tenere Tunde a distanza dal cofano di una jeep nera parcheggiata proprio davanti all'uscita. Ha un sorriso grande e fiducioso. Stai riprendendo? Domanda. Sì. Qui non ci lasciano guidare l'automobile dice. Ma guarda cosa sappiamo fare. Appoggia il palmo aperto sul cofano, si sente un click e il cofano si apre. Sorride verso di lui. Mette la mano appena sopra il motore vicino alla batteria. Il motore si avvia. La macchina va su di giri. Continua ad accelerare. Diventa sempre più rumorosa. Dal motore si alzano tonfi sordi, stridori. Tutta l'auto cerca di fuggire da lei. Nur se la ride mentre lo fa. Il frastuono diventa più straziante. Il rumore di un motore in agonia e poi c'è una potente percussione esplosiva. Un'enorme luce bianca si sprigiona dal blocco motore e tutto l'insieme si scioglie. Si affloscia sull'asfalto colando olio e acciaio fuso. Lei fa una smorfia. Ferra la mano di Tunde e gli grida all'orecchio Corriamo. E lo fanno. Attraversano di corsa la spianata del parcheggio e intanto lui incita guarda, riprendi, riprendi e lui si volta verso la jeep proprio nel momento in cui il metallo bollente entra in contatto con il condotto della benzina e tutto quanto salta per aria. È una scena talmente fragorosa e surriscaldata che per un momento lo schermo della videocamera diventa bianco e poi nero. E quando torna l'immagine al centro dello schermo ci sono giovani donne che vengono avanti ognuna con l'incendio sullo sfondo ognuna circondata dal bagliore. Passano da un'automobile all'alto mandando i motori su dei giri e poi roventando gli ingranaggi fino a farli fondere per il calore. Alcune di loro riescono a farlo senza toccare le auto inviano i flussi di corrente elettrica fuori dal corpo e ridono tutte quante. Tunde fa una panoramica verso l'alto per riprendere le persone alle finestre per vedere che cosa stanno facendo. Ci sono uomini che cercano di trascinare via le donne dai vetri e ci sono donne che si scrollano di dosso alle loro mani senza dire neanche una parola che guardano e basta coi palmi schiacciati contro il vetro. Allora Tunde capisce che quella cosa è destinata a cambiare il mondo e tutto sarà diverso ed è così contento che quella di gioia festeggia con le altre tra le fiamme. A Manfowa a ovest della città un'anziana etiope esce da un edificio fatiscente sorretto dall'impalcatore e va in mezzo alla strada per salutarle con le mani rivolte verso l'alto gridando qualcosa che nessuna di loro riesce a capire. Ha la schiena curva le spalle richiuse in avanti e una gobba lungo la spina dorsale all'altezza delle scapole. Nur le prende una mano e la chiude tra le sue mentre la vecchia la guarda come una paziente che osservi il trattamento di un dottore. Nur le appoggia due dita sul palmo e le mostra come usare quella cosa che deve essere sempre stata in lei che per emergere deve aver atteso tutti quegli anni. È così che funziona le giovani possono risvegliarla nelle anziane ma d'ora in poi tutte le donne la possiederanno. Appena quella dolce energia risveglia in lei le fibre e i legamenti nervosi l'anziana si mette a piangere nel filmato le si legge chiaramente sul volto nel momento in cui la sente dentro di sé. Non ne ha una grande quantità da sprigionare tra la punta delle sue dita e il braccio di Nur scocca una piccola scintilla avrà 80 anni e mentre ripete quel gesto le lacrime le scorrono lungo il viso alza le mani e si mette a ululare le altre donne si uniscono a lei la strada si riempie di quel suono la città ne è pervasa il paese pensa Tunde deve essere tutto inondato da quel gioioso avvertimento lui è l'unico uomo lì l'unica persona a filmare quella rivoluzione gli sembra un suo miracolo personale qualcosa che sovvertirà il mondo più tardi quel pomeriggio mandano uomini con elicotteri e soldati per le strade armati di fucili e munizioni vere quando le donne contrattaccano Tunde è sul posto a filmare ce ne sono così tante sono numerose e furiose molte rimangono uccise ma questo non fa che incattivire quelle che restano e può un soldato continuare a sparare per sempre falciando una fila di donne dopo l'altra le donne fanno fondere i percussori all'interno delle canne bruciano le parti elettroniche dei veicoli lo fanno in allegria era una beatitudine in quell'alba essere vivi dice Tunde nel suo resoconto fuoricampo dato che si è documentato sulla rivoluzione ma essere giovani era un paradiso 12 giorni dopo cade il governo circolano voci mai comprovate su chi abbia ucciso il re alcuni dicono sia stato un membro della famiglia altri un sicario israeliano e altri ancora mormorano sia stata una delle cameriere che dopo aver servito fedelmente il palazzo per anni ha sentito il potere tra le dita e non è riuscita a controllarlo a ogni modo ormai Tunde è di nuovo in volo ciò che è accaduto in Arabia Saudita è stato visto in tutto il mondo e adesso quella stessa cosa sta capitando contemporaneamente ovunque allora spero di aver reso bene l'atmosfera perché quando io ho letto questa roba per la prima volta mi sono gasato a mille ho sentito proprio la voglia di riscatto delle donne quella gioia e quell'entusiasmo per il senso di impotenza che se ne va via sostituito esattamente dal suo opposto e cioè un vero e proprio senso di potenza non a caso il titolo originale del libro è The Power nella storia che si snoda nel corso di una decina d'anni e viene seguita da più protagonisti si racconta proprio questo le donne scoprono di avere il potere di lanciare delle scariche elettriche dalle proprie mani e di fatto diventano indiscutibilmente fisicamente più forti degli uomini partendo da qui i cambiamenti nella società sono inevitabili e non senza resistenza da parte degli uomini si va dai più morbidi ma anche subdoli ai più radicali e violenti quindi le gerarchie nei luoghi di lavoro nella politica nelle relazioni interpersonali nelle famiglie si invertono la femminilità diventa sinonimo di forza e perciò gli uomini almeno quelli che non vengono ipersessualizzati per il piacere delle donne cercano di appropriarsi degli aspetti di quei lineamenti cosiddetti femminili proprio per appropriarsi di attributi che li possano rendere almeno visivamente più forti e poi tra i cambiamenti più radicali e violenti e questo succede soprattutto in quei paesi che precedentemente erano molto repressivi nei confronti delle donne c'è la pesante limitazione di libertà fondamentali e quindi non possono più essere liberi di circolare come vogliono non possono possedere cose e anzi vengono considerati proprietà delle donne e in più si diffonde la cultura dello stupro con pratiche molto simili all'attuale infibulazione che si traducono per esempio con l'impedimento e che cos'è questo impedimento? Praticamente tramite l'elettricità che le donne sanno emettere vengono bruciate le terminazioni nervose del pene di solito in età adolescenziale in modo che gli uomini non siano più in grado di avere un'erezione se non quando stimolati dalle scariche elettriche di una donna e insomma così via ne succedono veramente di tutti i colori c'è proprio un ribaltamento ora il romanzo fa determinate scelte narrative per raccontare questa inversione di potere scelte che possano piacere o meno alla fine della fiera però ci si ritrova in una situazione che è molto molto simile a quella della società attuale cioè quella in cui viviamo noi l'unica differenza è che appunto questa volta il sesso debole non è più quello femminile ma quello maschile la domanda con cui vorrei lasciarvi e quindi invitarvi a ragionare è ma secondo voi a giorno d'oggi la forza fisica può ancora essere quell'elemento che crea una differenza una disparità tra i due generi e se anche lo è stata inizialmente anche nella nostra storia evolutiva gettando quindi tutte le basi per quelle convenzioni sociali che ancora oggi perdurano oggi può ancora influire così tanto lo chiedo perché da un lato penso che siamo abbastanza evoluti da poter lasciare la forza brutta da un lato insomma siamo persone civili giusto dall'altro però mi rendo anche conto di un paio di cose la prima è che magari fare questa affermazione per me è facile dato che sono un maschio la seconda è che anche non esercitando praticamente la forza sugli altri c'è forse una sorta di pressione psicologica che ci ricorda sempre che generalmente il maschio è più forte della donna faccio un esempio scemo se tre donne incazzate mi minacciassero magari non avrei così tanto timore anche se è in dubbio che potrebbero sopraffarmi molto facilmente viceversa credo che una donna di fronte a un singolo uomo incazzato probabilmente si sentirebbe in pericolo anche se magari in uno scontro fisico potrebbe benissimo avere la meglio o sia chiaro è un esempio generalista che vuole provare a ragionare considerando i grandi numeri siamo tutti d'accordo che poi dipende da caso a caso da persona a persona eccetera comunque sia io voglio sapere cosa ne pensate e intanto vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video aspetto il vostro parere sia sulla lettura sia su tutto questo ragionamento e spero che questa prima puntata di parole di libri vi sia piaciuta se avete suggerimenti anche per migliorarla o se avete altri titoli che magari vorreste che io condividessi fatemelo sapere spero di aver usato i congiuntivi nel modo giusto adesso non lo so perché ormai ho registrato come sempre poi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale così se carico qualcosa di nuovo saliti prima a saperlo e di condividere questo video sia con i vostri amici sia soprattutto con i vostri nemici con questo è tutto quindi io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima un po' Grazie.